Gli angeli sono molto preoccupati per la tua famiglia. Messaggio dagli angeli Gli angeli stanno dicendo che qualcuno sta cercando di mettere nei guai la tua famiglia. Perché vogliono vederti piangere e andare da loro per chiedere aiuto finanziario. Dio dice, voglio e desidero vederlo sano e salvo, e protetto da ogni male in ogni momento. So che ci sono persone che non riescono a vedere i tuoi progressi e la tua vittoria nella vita, ma ho promesso che distruggerò i loro piani contro di te e credimi, avrai una vita meravigliosa davanti a te. Dio dice che questa è la tua stagione di guarigione. Goditi questo video se ci credi. Ripristinerò tutto ciò che il nemico ti ha rubato. Domani riceverai notizie entusiasmanti se guardi questo video completo. Riacquisterai la pace, la prosperità e lo scopo e ciò che hai perso ti verrà restituito. Dio dice che i prossimi tre giorni saranno pieni di benedizioni straordinarie, porte aperte e favori che non hai mai visto prima. Digita 1010 per rivendicarlo, il tuo nome verrà menzionato nelle stanze in cui i tuoi piedi non sono ancora entrati. Congratulazioni, la tua vita sta per cambiare, sarai inondato di benedizioni, guarigioni, amore e nuove opportunità. Dio dice che il 2023 sarà il tuo anno di guarigione. Ripristinerò la tua salute, le tue relazioni, le tue finanze e benedirò te e la tua famiglia con una vita prospera. Commento 1212 se ne hai bisogno Dio dice, quando la vita diventa difficile, non perdere la speranza. Dichiara ad alta voce, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nel corpo, la vivo mediante la fede nel figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non ho paura, ho fiducia che tu sia sempre al mio fianco. Il tuo spirito mi dà conforto, la tua parola mi riempie di speranza. Grazie per la pace e la guida in te, confido per sempre. Scrivi 222 e confida nel piano di Dio e ad alta voce Signore Gesù, oggi ti dono la mia vita. Perdona i miei peccati, lavami con il tuo sangue domani quando ti svegli controlla il telefono, riceverai alcune delle migliori notizie che tu abbia mai sentito, non perderle. Figlio mio, ti ho detto che non ti lascerò mai cadere, prenditi cura di ciò con cui ti ho benedetto, amalo e apprezzalo con tutto il cuore. Grazie a Dio sono amato, beato, salvato e perdonato, l'amore di Dio è migliore di qualsiasi cosa in questa vita. La tua parola è un'arma come cristiani, combattiamo contro il diavolo e i suoi agenti con la parola di Dio nella nostra mente, pregando e dichiarando. Scrivi, Gesù è il Signore. Dio dice, porterò salute e guarigione nella tua vita. Dio dice che quando arriverà il momento giusto, io, il Signore, lo farò accadere. Conosce e comprende le tue difficoltà e vuole aiutarti perché sei suo figlio. Questo mese è un'altra opportunità per amare gli altri, creare ricordi e avvicinarsi a te stesso. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per molto tempo e all'improvviso accadranno miracoli nella tua vita. Dio dice che tutto ciò che di negativo sta accadendo nella tua vita sta per avere una svolta positiva. Dio non commette errori, ti ha creato per uno scopo, sei benedetto, talentuoso e altamente favorito. Digita Amen per attivarlo. Benedizioni. Gli angeli sono molto preoccupati per la tua famiglia. Messaggio dagli angeli Gli angeli stanno dicendo che qualcuno sta cercando di mettere nei guai la tua famiglia. Perché vogliono vederti piangere e andare da loro per chiedere aiuto finanziario. Dio dice, voglio e desidero vederlo sano e salvo, e protetto da ogni male in ogni momento. So che ci sono persone che non riescono a vedere i tuoi progressi e la tua vittoria nella vita, ma ho promesso che distruggerò i loro piani contro di te e credimi, avrai una vita meravigliosa davanti a te. Dio dice che questa è la tua stagione di guarigione. Goditi questo video se ci credi. Ripristinerò tutto ciò che il nemico ti ha rubato. Domani riceverai notizie entusiasmanti se guardi questo video completo. Riacquisterai la pace, la prosperità e lo scopo e ciò che hai perso ti verrà restituito. Dio dice che i prossimi tre giorni saranno pieni di benedizioni straordinarie, porte aperte e favori che non hai mai visto prima. Digita 1010 per rivendicarlo, il tuo nome verrà menzionato nelle stanze in cui i tuoi piedi non sono ancora entrati. Congratulazioni, la tua vita sta per cambiare, sarai inondato di benedizioni, guarigioni, amore e nuove opportunità. Dio dice che il 2023 sarà il tuo anno di guarigione. Ripristinerò la tua salute, le tue relazioni, le tue finanze e benedirò te e la tua famiglia con una vita prospera. Commento 1212 se ne hai bisogno Dio dice, quando la vita diventa difficile, non perdere la speranza. Dichiara ad alta voce, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nel corpo, la vivo mediante la fede nel Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non ho paura, ho fiducia che tu sia sempre al mio fianco. Il tuo spirito mi dà conforto, la tua parola mi riempie di speranza. Grazie per la pace e la guida in te, confido per sempre. Scrivi 222 e confida nel piano di Dio e ad alta voce Signore Gesù, oggi ti dono la mia vita. Perdona i miei peccati, lavami con il tuo sangue domani quando ti svegli controlla il telefono, riceverai alcune delle migliori notizie che tu abbia mai sentito, non perderle. Figlio mio, ti ho detto che non ti lascerò mai cadere, prenditi cura di ciò con cui ti ho benedetto, amalo e apprezzalo con tutto il cuore. Grazie a Dio sono amato, beato, salvato e perdonato, l'amore di Dio è migliore di qualsiasi cosa in questa vita. La tua parola è un'arma come cristiani, combattiamo contro il diavolo e i suoi agenti con la parola di Dio nella nostra mente, pregando e dichiarando. Scrivi, Gesù è il Signore. Dio dice, porterò salute e guarigione nella tua vita. Dio dice che quando arriverà il momento giusto, io, il Signore, lo farò accadere. Conosce e comprende le tue difficoltà e vuole aiutarti perché sei suo figlio. Questo mese è un'altra opportunità per amare gli altri, creare ricordi e avvicinarsi a te stesso. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per molto tempo e all'improvviso accadranno miracoli nella tua vita. Dio dice che tutto ciò che di negativo sta accadendo nella tua vita sta per avere una svolta positiva. Dio non commette errori, ti ha creato per uno scopo, sei benedetto, talentuoso e altamente favorito. Digita Amen per attivarlo. Benedizioni. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita. Dio dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per la tua vita.